Lino e Alessia sono tornati insieme? Spunta un dettaglio che accende il sospetto La nuova edizione di Temptation Island con i relativi protagonisti, non sembra aver abbassato l'attenzione su Lino Guanciale e Alessia Pascarella I due ex volti dell'edizione estiva, infatti, continuano ancora a far discutere soprattutto sui social Dopo essere sfumata per Lino l'opportunità di prendere parte al Grande Fratello 2024, squalificato ancora prima del suo ingresso per via di alcune sue affermazioni ritenute omofobe, Alessia si era espressa sul conto del suo ex prendendo le sue difese Un gesto che era stato visto come una sorta di riavvicinamento nei confronti di Lino, il quale dopo la frequentazione Lampo con l'ex tentatrice Maika, ha continuato a definirsi single Questo ha portato il sospetto che Lino e Alessia avessero organizzato tutto a tavolino al fine di replicare quanto accaduto con Perla e Mirko nella passata edizione del Grande Fratello, nonostante le smentite dell'ex coppia Ma siamo sicuri che si possa parlare proprio di ex coppia? Nelle ultime ore, infatti, sarebbe emerso un retroscena che avrebbe portato in tanti a sospettare nel ritorno di fiamma tra Alessia e Lino Entrambi hanno postato degli scatti in cui appaiono apparentemente nella stessa auto Alessia si è giustificata asserendo che si tratterebbe della macchina di un amico, simile a quella del suo ex Ma qualcuno continua a non credere alla versione della donna